3.100 tonnellate di rifiuti misti, speciali e pericolosi, che erano stati abbandonati in tre aree private in Brianza, trasformate in discariche abusive a cielo aperto. È il materiale messo ora sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Monza, con un intervento che ha riguardato un terreno di 6.850 m2 a Triugio, di proprietà di una onlus, e due aree da 6.000 m2 complessivi nel comune di Varedo. Dopo le indagini svolte anche grazie ai sorvoli di elicotteri con tecnologia di ultima generazione della sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziare di Monza e gli operatori della polizia provinciale hanno perquisito le aree individuate. Sul posto è stato trovato un manufatto abusivo usato come deposito, ma anche un autocarro, un trattore ed un generatore a gasolio in evidente stato di abbandono, tutti materiali classificati come pericolosi da avviare alle operazioni di smaltimento. Tra i rifiuti sequestrati risultano materiali ferrosi provenienti da demolizioni industriali e lavori idili, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di impianti dismessi e batterie, oltre a rifiuti da giardinaggio, parti di veicoli quali sedili e centinaia di pneumatici, rifiuti di lana di vetro e lana di roccia, vetro e mobilio. Sono quattro i soggetti denunciati alla Procura della Repubblica di Monza per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Per uno di loro, prevista anche la responsabilità di abuso edilizio e paesaggistico in relazione ad una delle aree individuate e ricompresa nel Parco Valle dell'Ambro. Sono ora in corso gli accertamenti per la messa in sicurezza dei siti e le verifiche su eventuali contaminazioni ambientali, vista anche la presenza sul posto di tracce di roghi appiccati con conseguente emissione nell'aria dei fumi della combustione.